Se non scarichi OneFootball non saprai le novità, calcio in live ad ogni ora e c'è anche la Serie A. Dai scaricati OneFootball, link in descrizione è, fidati non è uno sbaglio, è la migliore app che c'è. E dai lo sai, Milan-Inter è il derby di Milano e io stasera sono seduto sul divano, yeah. Noi dai a casa o allo stadio ti incitiamo, lo facciamo da sempre, dai fa parte di me. Il Milan fronta un Inter capolista, pronti a esultare i gol con il telecronista. Non c'è più Icardi che rovinava i miei sogni, ma tu Lukaku e Lautaro ti porti. Io non so se a un gol cadrà lo stadio, oh, e non so se farà ancora il contro, che sì, che sì, che sì. E sale l'agonia, il derby diamo il via, la varina varia e griderai anche tu. Ma io ora so che griderò fino all'ultimo, sì lo so. Giocatori escono dal tunnel, si sente già l'odore di ricordi a fiume, lacrime, dolore e mento. Se dico non ci penso, l'Inter è un po' affranto, al 6-0 hai sofferto. Con su Nin che investe in un momento, è Marotta che decide. Poi è Conte, allenatore portento, vuole scrivere pagine, vuole diventare il re della nazione. Ha salutato anche il mondo Juve, ora non ci sono neanche più parole. Le Maurizio Sari che allena la Juve, fuori dallo stadio a fumo genoccesi. Pronte ad esultare i tifosi interisti, spero io per voi che non uscate lesi. Questo Milan ora vuole stupirvi. Io non so se a un gol cadrà allo stadio, e non so se farà ancora i contro, che sì, che sì, che sì. E sale l'agonia, al derby diamo il via, la varina varia e griderai anche tu. Ma io ora so che griderò fino all'ultimo. Si lo sa. Giocatori escono dal tunnel, si sente già l'odore di ricordi a fiume, lacrime e dolore. Mento, se dico non ci penso, l'interista un po' affranto al 6-0 hai sofferto. Mento, se dico non ci penso, l'odore di ricordi a fiume, lacrime e dolore. Mento, se dico non ci penso, l'odore di ricordi a fiume.